Voglio realizzare il primo esempio di pornografia alimentare del mondo. Allora, quello che ci vuole per fare la pornografia alimentare sono le banane e un pacchetto di ciambelline. Allora, in pratica, partiamo le ciambelline, le tiriamo fuori, così in modo sensuale. Poi, allora, innanzitutto prepariamo la ciambellina, poi banana, sbucciamo la banana. Ecco, è pornografia, questa è pornografia alimentare, gente. Poi, dopodiché, inseriamo la banana dentro la ciambellina. Oh, sì, oh, sì, ti sfondo, baby, ti spacco. Ecco, pornografia, pornografia alimentare. Gente, sono un genio, sono un genio. Ho appena inventato il food porn. Oh, no, si è rotta. Adesso dovrò andare all'ospedale.